Ciao amici di Edifici di Paglia Italia, oggi siamo al primo giorno di montaggio delle pareti in paglia, siamo all'interno del cappannone della cappelleria, a miei spalle è uno dei 16 moduli che vanno a comporre le pareti della casa in paglia, come vedete è realizzato con un telaio di legno, con un pannello strutturale di legno qui per insomma, e tutta la parete è isolata con una paglia e cementificata, il pannello è lungo 6 metri, e verrà assemblato qui in carpenteria, a miei spalle si può vedere il montaggio dei moduli, e poi questi moduli una volta montati verranno portati in cantiere, per poi essere montati in pochi giorni, e diventerà la nuova casa in paglia, qui all'interno è l'acustica, si sente già che è migliorata, il rumore si sente meno, e in questa casa, che è di 360 metri in paglia, abbiamo utilizzato 1.500 palli di paglia, e i pezzi di legno per comporre le pareti in legno e paglia, sono 2100 pezzi che vanno a comporre tutti i pannelli delle pareti, facendo una particolarità, le pareti dove abbiamo già preso anche il passaggio dentistico, i corduli, eccetera eccetera, ok per oggi è tutto, ti saluto e ti aspetto a questo montamento, assolutamente della carpenteria, potrei vedere altri parti che andremo a montare, ti ricordo che la mia casa è ilvicinipaglitalia.com, ciao!